Qual è la neuropatia ottica ereditaria di Leber? La neuropatia ottica ereditaria di Leber, LHON, è una forma di cecità progressiva. È di origine genetica ed è estremamente raro. I sintomi in genere si verificano prima quando quelli che sono afflitti hanno più di 10 anni. Quando una persona che ha la neuropatia ottica ereditaria di Leber soffre per la prima volta dei sintomi della malattia, sperimenta la vista offuscata o l'opacità della vista. Questo può verificarsi in entrambi gli occhi o solo in uno, anche se alla fine entrambi gli occhi sono influenzati. Man mano che la malattia progredisce, la persona sviluppa problemi vedendo abbastanza bene da riconoscere altre persone a vista, guidare un'auto o leggere. Anche la percezione del colore è peggiore. Tutti questi sintomi sono causati dal fatto che il nervo che trasmette i dati visivi al cervello dagli occhi sta lentamente morendo. Generalmente, la perdita della vista non causa alcun dolore e, a volte, la visione può migliorare. Alcune persone che hanno la neuropatia ottica ereditaria di Leber, tuttavia, hanno anche problemi nel muoversi correttamente, hanno battiti cardiaci irregolari o sviluppano un tipo di malattia da sclerosi multipla. Le mutazioni in alcuni geni sono responsabili del deterioramento dei nervi. Sono coinvolti quattro geni principali, MTN-D1, MTN-D4L, MTN-D4 e MTN-D6. Tutti questi geni si trovano in particolari aree di una cellula umana. Le parti della cellula che contengono i geni sono chiamate mitocondri. Queste sono piccole strutture che aiutano la cellula a rendere l'energia utilizzabile dal cibo. La maggior parte dell'informazione genetica all'interno di una cellula è racchiusa in una parte diversa della cellula, chiamata nucleo, ma i mitocondri hanno anche piccoli pacchetti di geni. Normalmente, i geni coinvolti nella malattia di LH o N svolgono una funzione essenziale per i mitocondri. Quando uno di questi geni viene mutato, tuttavia, il gene non svolge correttamente i suoi compiti ai risultati della malattia. A partire dal 2011, era sconosciuto esattamente come i singoli geni anormali causano problemi. Ogni umano eredita i mitocondri da sua madre e nessuno dal padre. Questo perché l'uovo contiene mitocondri, ma uno spermatozoo o no. Quando si forma un embrione, ha solo i mitocondri della madre e quindi solo i geni mitocondriali della madre. L'ereditarietà di uno dei geni anormali, quindi, può avvenire solo dalla lato materno. In rare occasioni, una persona può avere una mutazione spontanea nei suoi geni che non è ereditata. Non tutte le persone che hanno un gene anormale svilupperanno la neuropatia ottica ereditaria di Leber, anche se le ragioni di ciò sono sconosciute. Fumare, bere alcolici, una lesione alla testa o stress possono essere fattori determinanti per determinare chi sviluppa questa malattia, ma queste cause non erano state provate nel 2011.